Ciao a tutti, nel video di oggi, Vittoria si rilassa a guardare dalla finestra gli operai che puliscono i vetri. Nel frattempo, Chiara partecipa alla sfilata di Louis Vuitton. Vi lascio al video, buona visione! Chi c'è amore? Saluta, di ciao! Ciao mi chiamo Vittoria, ciao! Ciao, io mi chiamo Vittoria, ciao! Brava Vittoria, brava! Oh, Madonna, guarda che bella, amore! Guardala! Che cosa fai? E cosa fa? Basta! Ti piacevo! Ti piacevo! Se l'hai mangiato? Eh sì! Basta, non ti arrabbiare! Ti piacevo, ti piacevo! Dai dai, hai mangiato un pezzettino se no! Ok! Ma tu guarda! Sei la prepotente, è seria! Amore, non puoi mangiarlo tutto! Ma Vittoria! Ma guarda che si arrabbia! E qui diventa rossa! Vitto, ma dove vai? Dai, ti aiuto! Non sarà un po' troppo, amore, questo panino! È un po' troppo grande per te! Che dici? Ti aiuto il nome! Buon gioca! Bologna merda! No, no, no! No, no! Bologna merda! Buon gioca consumma! Grazie per aver visto il video. Se ti è piaciuto lascia un like ed iscriviti al canale. Ci vediamo domani.